pasta zucchine e carote un primo piatto facilissimo da fare perfetto per l'estate perché è ottimo anche come condimento per la pasta fredda benvenuti nel canale di tavola serena oggi andiamo a preparare insieme questo primo piatto ci dedichiamo come prima cosa alla pulizia delle verdure ma nel mentre mettiamo a scaldare l'acqua per la pasta vado a rimuovere le estremità vado a rimuovere la buccia delle carote e poi con il pela patate vado a tagliare le verdure a striscionine direttamente nel tegame che mi servirà io avevo un tegame piccolo poi mi sono resa conto che era troppo piccolo e ne ho preso uno più grande questa è una ricetta di mia mamma e lei che mi ha detto di fare così lei usa questa preparazione per tante cose e davvero è una genialata vado ad aggiungere poi delle foglie di basilico olio extravergine d'oliva e semplicemente del sale tutti gli ingredienti che ho utilizzato li trovate ricapitolati durante il video e sotto nei box informazioni trovate la ricetta stampabile sul mio blog vado poi a cuocere a fuoco medio alto le verdure per circa 2-3 minuti non di più nel frattempo salo l'acqua e vado a buttare la pasta io ho scelto gli spaghetti nel mentre le verdure saranno sicuramente già cotte non devono cuocere eccessivamente una volta che sono leggermente appassite ma ancora croccantine sono perfette vado a scolare la pasta la tuffo direttamente nel tegame e condisco con panna da cucina se invece volete semplicemente fare della pasta fredda versate il tutto all'interno di una bella ciotola vado poi ad impiattare e la pasta zucchine e carote è già pronta io spero tanto che questa ricetta semplicissima ma secondo me utilissima vi piaccia se è così lasciatemi un pollicino in su iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti condividete la ricetta così aiutate il mio canale a crescere e vi aspetto qui nel prossimo video per un nuovo primo piatto ciao